Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo episodio di Zuckler Games Come vedete oggi sto ripresentando Happy Wheels Anche perchè da tanto che non lo sto facendo Bene, cominciamo questo episodio con un drop swing E con una pubblicità che mi esce sempre non so perchè Bene, cominciamo Ok, no Cominciamo benissimo Ok vai Ok, ok, si Ok Bene Vai, sei un atletanato No Ok, di nuovo ricominciamo Vai, vai, vai Vai Ok, ok No Ok, o è negato lui o è negato io Ma credo che ce lo si conta Sì Ok Ok No, 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 no Ma perchè non vai diritto? Perchè Ah Aia Aspettate un attimo Ok Bene, basta E con i drop swing oggi sono negato E' questo 9,9999999999 impossible Eh, sono sopra delle spine Ah, devo farlo con Con lui Con lui Ok, vediamo, vediamo Vai No Perchè Perchè Mi addio No C'era la spina La mina Sono vivo Sono vivo Ok No La vediamo, vediamo Ci devo riuscire Ci devo Ok, ok No, no No Guardate per quanto Cavolo la mina La mina Ma se facessi così? No, non è così Allora, vediamo un attimo Andiamo un pochino più avanti Ok Ma che Dite che sono vivo? Ok, premiamo l'ultima volta E vediamo se ci riesco Ok, ok Sì, sì Ci sono No Ok, la mina è coperta Vediamo se riesco a liberarmi Beh Eeeh Ok Vediamo Un altro livello Piccolino Ok Epic Pogo Cell Vediamo Ma questo non è come tutti Poco Cell È diverso Vediamo Che cosa si deve Mamma mia No, no, no Ok, forse vingo Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Posso vincere Posso vincere Ok Ok Ormai ho vinto Ormai ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Sì Ok Il livello a macchina No Jetpack Joyride Neanche Vediamo questo Smackdown Cavolo Ok Ok Cavolo Bene Vediamo questo Youtuber Spikefall Visto che a me Gli Spikefall Piaggiano tantissimo Ok 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 Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Vai, 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 vai Sì, 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 sì Sì Allora, il livello Epic Polkogel L'abbio fatto prima Jet Run Vediamo questo Oh mamma mia No, 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 no No Vai, 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 vai Sì, ok Ok, ok Ci siamo Ci siamo Ok E qui ci siamo Allora Vediamo Vai Ok Ok Aspetta No, no, no Aspetta Ok, sono arrivato in nuovo Quasi allo stesso punto di prima Sto facendo capriole Giravolta e non so che Oh mamma mia Cosa sto facendo Allora, vediamo Vai, vai, vai Ok, ok Ok Ok, ok No, no Oh cavolo No, no Che cavolo Bene Dopo i jet che si spostano da soli Possiamo chiudere Cos'è questo? V, 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 v Bene, vediamo Che cacchia Eeeh Se Bene Credo che sono morto Radendag Sparkure map Andiamo Facciamo sempre con il pad Oh mamma mia Allora, le frecce Luke Vai, vai, vai Anzi, Timmy 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 Ok Ok Piano Bravo Piano 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 No Cavolo L'ho visto alla fine No Mamma 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 mia Cavolo I vetri I vetri Guardi cavolo Di vetri addosso No Ma posso finire il livello In questo modo Mio Dio Ok Ricominciamo Vai, vai Vai Timmy Feda Scudo Ok Sali 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 Capriola Bravissimo Bravissimo No Cavolo Le avvertenze pubblicitarie No Ok Ok Mamma mia Per quando Eh Bene Non ce l'ho prendo L'ultima volta Vai, vai Cavolo Timmy Mi fai sembrare da scudo Ok Fai schifo Tim Vai 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 Ok Vai Ce l'ho puoi fare Ce l'ho puoi fare Ok Adesso facciamo andare No Aspettate Aspettate Guardate In che posizione Ha messo il padre Vai No No Vaffanculo Ok Facciamo Vediamo Un altro Livello 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 Facciamo Roof racing Vediamo Ecco Già sbattuto Andiamo Vediamo 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 Salta questo Salta anche questo Cavolo Ma posso morire Al primo Arpione Che Ok ho capito Cos'è Che devo fare Guardate adesso Come lo schivo Guardate Che cavolo Vai Esulta Acqua Park Questo qua Lo devo fare Assolutamente Oh mio dio 3 2 1 Ok Un livello Senza senso Facciamo questo Kill him 3 Che cosa Sta ballando Vabbè 3 2 1 Vai Ok Aspettate un attimo Perché Hai mangiato La mia Pizza Ok Bene Facciamo l'ultimo Livello E poi Concludiamo Vediamo 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 Don't move No Don't move No Ehm Poco jump Vediamo Poco jump Lo faccio col pokemon Ok Bene Siamo a buon punto Ma che cavolo Bene Ok Ok Si ci siamo Ci siamo No 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 Ma che cazzo No Come faccio A rompermi A morire In questi livelli Bene Per questo episodio È tutto Spero vi sia piaciuto Vi volevo dire Una cosa Prima di concludere L'episodio E cioè che Mi dispiace tanto Di non aver fatto I video Durante questo lungo periodo Di assenza Ma come Vi ho già scritto Nel mio canale Ho avuto Tanti problemi Bene Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate E iscrivetevi Noi ci vediamo Alla prossima Alla prossima